Il Consiglio regionale prosegue le sue ferie, con il benestare della conferenza dei capigruppo che all'unanimità ha messo in calendario due sedute di Consiglio per il mese di settembre, una il 12 e una il 20. Saranno in totale 42 dunque giorni di ferie che l'Assemblea si è concessa, considerando che l'ultima riunione si è svolta il 31 luglio. Come se in Calabria andasse tutto bene e come se nella stessa maggioranza di centro-sinistra tutto filasse liscio. Neanche la tragedia delle gole del Raganello ha scomposto più di tanto i presidenti dei gruppi. La discussione sulla sicurezza del territorio è stata inserita per il 12 settembre. Se ne può discutere dopo ferie, in buona sostanza. Ma anche le questioni politiche sembrano essere evaporate durante l'estate. In occasione dell'ultima seduta di Consiglio, Carlo Cuccione e Enzo Ciconte hanno annunciato la loro sospensione dal gruppo del PD. Seguendo l'esempio di Domenico Bevacqua, che lo aveva fatto qualche settimana prima, e subito dopo l'uscita di Giuseppe Nerito, Nino Scalzo e Franco Sergio, andate a formare il gruppo dei moderati per la Calabria. Oliverio, nell'incastare l'ennesimo colpo dai suoi, aveva tonato il rivolto alla presidenza del Consiglio. Serve una riunione ad hoc per discutere di questa situazione. Una sorta di verifica per capire se ci sono meno i numeri per governare. Bene, della verifica non ci sono tracce né per la seduta del 12 né per quella del 20. Ennesima dimostrazione di quanto sia credibile l'attuale classe dirigente. Riccardo Tripepi per la CNews24.